All'inizio del secolo chi veniva colpito dal cancro aveva poco speranze di guarire. Oggi i progressi della ricerca permettono a un malato su due di guarire in modo definitivo. Sempre più persone così possono dire di essere vive, perché la ricerca è viva. Questo grazie al lavoro dei ricercatori e al contributo di chi da oltre 30 anni sostiene l'Associazione Italiana per la ricerca sul cancro. La ricerca sul cancro costa. La vita non ha prezzo. Grazie a tutti.